Anno d'oro il 2011 per il turismo toscano, tornato abbondantemente ai livelli pre-crisi, con ottime performance in tutti i settori nei quali si suddivide l'ampia offerta. 12 milioni, secondo le proiezioni, i turisti giunti nella nostra regione durante l'anno appena trascorso, per un totale di 42 milioni di presenze, il miglior risultato degli ultimi anni. Ma ad un aumento costante del numero dei turisti non corrisponde un aumento proporzionale dei fatturati. Il turismo nel 2011 si è assestato a un più 3,3%, un dato che conferma la leadership nazionale della Toscana rispetto alle presenze turistiche. Bisogna lavorare per rilanciare in maniera importante non solo il segmento del turismo, che è già estremamente valido, ma anche il segmento economico. All'andamento positivo del settore turistico della Toscana contribuiscono in misura sempre maggiore i mercati emergenti, soprattutto quelli dei paesi dell'area BRIC, Brasile, India e Cina, verso i quali si concentrerà in particolare l'attività di Toscana Promozione, l'azienda di promozione turistica della regione che per il 2012 investirà 3 milioni di euro per un totale di 65 iniziative. E' molto positivo il fatto che questo trend si sia esteso a tutti i prodotti, quindi la montagna estiva, il turismo ambientale, anch'esso più 6% rispetto al 2010, il termale che ha interrotto un trend negativo e ritorna a crescere con un segno positivo importante, 3,5%, e poi il balneare e l'agriturismo, due segmenti strategici, nevralgici per la nostra regione, che grazie anche a buone performance dei mercati internazionali segnano dati positivi tra l'1 e il 2%. Più difficile è la situazione per quanto riguarda il mercato nazionale, che risente in maniera forte della congiuntura economica e verso il quale sarà necessario lavorare nella direzione di un'offerta sempre più conveniente nel rapporto qualità-prezzo.